Mi chiamo Sara Fantini, da circa sei anni mi occupo di organizzazione eventi, servizi e formazione. Ho lavorato in vari ambiti, da quello sportivo, che è quello che prediligo, al settore musicale e alle manifestazioni fieristiche. Organizzare eventi non è un'attività semplice, per questo anche io mi dedico molto alla formazione dei giovani in questo ambito. Organizzare eventi significa tenere conto di vari aspetti, da quelli burocratici a quello sempre più importante della sicurezza e a quelli ovviamente organizzativi e gestionali. Questa professione può dare grandi soddisfazioni, quindi consiglio ai giovani che hanno voglia di intraprenderla, di avvicinarsi, però con la consapevolezza che ci vuole appunto professionalità e continuo aggiornamento. In questo può essere d'aiuto far parte di un'associazione di categoria, perché in vari modi viene incontro alle esigenze delle imprese e aiuta nello sviluppo della propria attività.